Hanno superato quota 150 i contagi in costiera amalfitana dove sono risultati positivi al covid-19 anche due primi cittadini, quello di Cetara, Roberto della Monica e di Agerola, Luca Mascolo. Hanno comunicato loro stessi sui loro profili facebook di essere stati contagiati dal coronavirus. Roberto della Monica è purtroppo sintomatico, ha dovuto far ricorso nella notte alle cure ospedaliere per difficoltà respiratorie. Per fortuna ora sta meglio ed è tornato a casa dove continuerà le terapie. Prima di venire a conoscenza della sua positività il sindaco di Cetara aveva deciso un giro di vite nel suo comune per il contenimento della diffusione dei contagi da covid-19 alla notizia del quindicesimo contagio. Disposta la chiusura fino al 15 novembre delle scuole di ogni ordine e grado con le attività commerciali che resteranno serrate delle 14 in poi a parte il sabato dove l'apertura è consentita fino alle 18. chiuse le strade pubbliche, il cimitero, il comune, le chiese, richiesta al prefetto la presenza di forze dell'ordine per il rispetto delle restrizioni. Come detto anche il sindaco di Agerola, Luca Mascolo, è risultato positivo al covid-19. Lo ha annunciato egli stesso dopo le 22 con questo messaggio. Sono positivo e in isolamento domiciliare da stasera. Al momento sono asintomatico e sono piuttosto sereno per le mie condizioni complessive, anche se assai rammaricato per non poter essere in prima linea in questi giorni cupi per la nostra comunità e per tutti. Mascolo sottolinea di aver osservato tutte le prescrizioni anticontaggio. Questo non fa che aumentare le mie anze su come agisco a questo subdolo virus, dice, ma abbiamo il dovere di difenderci, di difendere i nostri cari. A loro gli auguri di una pronta guarigione da parte della conferenza dei sindaci della costiera malfitana. Costa da Marfi, scrivono i sindaci, che deve essere adesso unita più che in ogni altra occasione. Con la collaborazione di tutti, rispettando le regole ed indossando i dispositivi di sicurezza, sarà più facile superare questo momento difficile. I sindaci, i centri operativi comunali, le associazioni di protezione civile, la Croce Rossa italiana, l'azienda sanitaria locale di Salerno con l'unità speciale di continuità assistenziale, l'azienda ospedaliera universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragone, i comandi di polizia locale e le forze dell'ordine stanno lavorando senza sosta, ma i comportamenti responsabili di ciascun cittadino sono in questo frangente necessari per contrastare e neutralizzare la minaccia portata dal covid-19. Siate tutti soggetti attivi di protezione civile, aiutateci ad aiutarvi, andiamo tutti insieme oltre.